Il MAN è uno dei più importanti musei archeologici al mondo ed è qui che si esaltano le parole di Gian Battista Vico quando parla di idem sentire comune perché in questo luogo noi ritroviamo la storia quel lungo sedimento secolare della storia che concorre a creare la nostra identità di nazione è un museo meraviglioso che riapre la sezione Campania Romana io visito chiunque a venire qui perché ne vale davvero la pena e questa inaugurazione secondo me sta a significare qualcosa anche di più vasto cioè un momento di rinascimento della città di Napoli che esalta le sue doti di grande capitale del Mediterraneo e capitale europea Tutto ciò va mostrato orgogliosamente e va raccordato all'interno di un grande progetto di sviluppo socio-economico della città questa città deve crescere anche in termini di occupazione in termini di sviluppo ha delle università molto importanti e tutto ciò deve essere coniugato in un nuovo rinascimento